Segretario, un sindacato sempre più vicino ai propri associati, ai cittadini, soprattutto ai pensionati, anche in quest'ottica l'inaugurazione oggi a Pescara in Piazza Rizzo di questa nuova sede della Will. Sì, certamente, questa è una sede che noi avevamo già attivato alcuni anni fa e che praticamente ospitava solo i pensionati e quindi un po' si occupava solo dei pensionati. Noi abbiamo voluto che questa sede diventasse una sede confederale, nel senso che la Will, oltre che avere i pensionati, che è ovvio hanno delle esigenze particolari, ma noi riteniamo di dare un servizio a tutta la collettività che abita in questo quartiere, avendo presente che è un quartiere che sicuramente ha bisogno di servizi e noi saremo a loro disposizione. In questi quartieri di carattere popolare ci sono problemi sia di carattere previdenziale, di sostegno al reddito, di problemi fiscali, di problemi abitativi, di problemi anche riguardanti la disabilità. Quindi noi, fortunatamente, siamo un'organizzazione che può mettere a disposizione una rete di servizi che possono rispondere a questo e ad altro che magari in questo momento non mi è venuto in mente. La famosa intuizione del sindacato dei cittadini, anzi direi anche il sindacato delle persone, si sta attuando in maniera ottima perché noi cercheremo sicuramente di stare vicino alle persone che hanno bisogno, le persone che soffrono di disagi e quant'altro. Quindi poi strategicamente una zona qua, la zona sud di Pescara, che diciamo non c'è una struttura così importante perché questa struttura ci sarà non solo la sede della Will pensionati, ma verranno messi i servizi, quindi il CAF, il patronato, quindi avremo sicuramente, io mi auguro molto successo. Io come segretario generale della Will pensionati di Pescara mi auguro che questa possa diventare una zona a disposizione di tutti.